Rilassati, considerami come una tua vecchia amica, ti va bene? Sì signora No, non ci siamo capiti Dunque, vuoi darmi del tu per favore? Allora dai, partiamo dall'inizio, ok? Tu non riesci a trovare una ragazza? Sì signora Ah ah Janet No, va meglio così Sì Ecco, allora dimmi, che succede quando la porti fuori? Portarla fuori? Mark, non dirmi che... Ma come fai a conoscere una ragazza se non la porti fuori? Ah, speravo che fossi tu a dirmi Buongiorno signore, ha prenotato un tavolo? Ah, no, sono venuto a verificare la qualità della vostra cucina Praticamente le lumache con il burro all'ottile velo di dico delle domande Merci Potremmo anche essere un po' più educati Lo so, ma se fossi almeno più carino Oh Mark, non essere sciocco, io ti trovo molto attraente Deve... Sì Credimi E poi... Vedi Mark Essere belli non è la cosa più importante Secondo me invece è ciò che si ha in comune È il modo comune di vedere la vita quello che conta Sai cosa mi dispiace? Cosa? Di non averti conosciuto prima Come? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti